Da ieri è aperta la mossa di Nibbi in piazza San Francesco, ad Arezzo manifesti e manifeste, voi sapete che Filippo Nibbi collabora anche con noi, poi ha scritto con me un libro, un grande libro, gli scritteriati, perché ridete? Perché mi ha detto un grande libro, vabbè ha scritto un libro, ha scritto una cazzata, una cacata di libro che vi sconsiglio di comprare nelle peggiori librerie perché le migliori ci hanno cacciato, buona domenica, buona domenica a tutti voi e ho alcuni dei vostri messaggi, quindi continuate a scriverci nella nostra apposita casella, adesso dillo tu, cliccate, noi il sabato e la domenica riporteremo i vostri messaggi. Allora Doretta mi dice, il futuro di Fiat, io fiaterò, lo vedo un futuro molto ottimistico, a mio avviso dovranno lavorare e zitti, purtroppo Marchionne e Dentourage non mi sembrano molto permissivi o disponibili al confronto, comunque bravo Leonardo, informare anche con ironia, che vuole fare, c'è rimasto solo da farlo così. Amintore, che non è il compianto fan fan la tulip, dice, riguardo al futuro dei lavoratori Fiat, credo che si vedranno peggiorare la loro situazione in tutti i sensi, ma il dramma non sarà tanto in quello delle aziende così grandi quanto nel mare delle piccolissime realtà lavorative, ed è ovvio e banale aspettarsi che la merda scenderà giù a cascate fino a prendere tutti, d'altronde l'indotto, il condotto che la dovrebbe portare, ma essa scende a cascata sull'indotto. Tina invece dice Fiat Voluntat Stuart, secondo il mio modesto pensiero la Fiat non sarebbe arrivata tanto se il dio Marchionne non fosse stato nella necessità di doversi aumentare la paghetta per poter arrivare alla fine del mese, quindi l'ironia è sui nostri ascoltatori. Poi Andrea D che dice come oggetto dignene te a lui che ne ne devo dire io, come? Han già scritto in più di 600, forse riferito a quanti lasciano il messaggio, allora ci posso scrivere anche io in questa bacheca bellina bellina. Complimenti per il sito La TV, Leonardo l'ho scoperta da poco e ora la frequento abitualmente, visto il prezzo buono, visto che non costa niente. La rubrica della TC3 è troppo avanti, non è uguale in tutta Italia. Complimenti di nuovo, post scrittum, ditegli a Lena che si faccia rimborsare il corso di italiano. Lena è la nostra amica russa, Italia, nome di padre, bocchino, prosciutto, cane, salsicce. Ciao Leonardo, non so se hai avuto modo di vedere sul mio profilo di cosa mi occupo, oltre al mio centro di parrucchieri, ah è uno un parrucchiere che mi vorrebbe insegnare a fare gli spot, ora se vuoi insegnare a babbo a fare i figliori, abbi pazienza, se ne parla magari in un altro frangente. Francesco dice avremo qualcosa da dire sul consorzio, lo vuoi prima di Teleturia? Sentiamoci, ah Francesco, non mi chiamo, non sa manco come mi chiamo, è Angelo, Angelo di Bartolomeo, ma perché esiste ancora Teleturia? Angelo. Poi c'è Stefano Conti che dice, ciao carissimo Leonardo, come va? Che mi dici di bello? Non sa parlare di cicala. È domenica, va bene. Guarda un po', a Cortona al teatro con che ho avuto l'onore di fare la foto, ah e mi manda la foto della Ornella Muti. Caro Stefano, quando la stapanavo io a Muti? Ma che stapanavo? No, nel senso che uscivo con due amici sordo Muti. Allora, Mario Neri mi scrive, ciao Leonardo, ma ti ricordi quando andavamo a Monterchi a casa tua con il Mangani, era solo qualche anno fa, ci sentiamo Mario, Mario, ma non qualche anno fa, erano 40 anni fa, ma non sei morto ancora? Mi fa piacere? Io sono immortale in Italia, la differenza è bello avere voi intorno. Poi, no Mario davvero scrivimi veramente che mi fa piacere sapere che è ancora vegetti. Allora, laboratorio Massa Trabaria mi scrive ciao grazie per avermi fatto conoscere Tiaretono TV, volevo avere qualche notizia in più. L'ambito di riferimento è l'aretino circa gli argomenti, invece quali sono quelli che trattate con maggiore frequenza? Beh, da quando si parla di Berlusconi è la figa che in ferro… No, è domenica! Anche Riserra l'ha fatta Vauro a Rai 2, scusate, un po' se ne parla Vauro che è anche un budello, non lo posso parlare io. Allora, Luciano Petrai invece dice il Berlusca è con le minorenni, ma che lui ha una compagna fissa, la porta ogni fine settimana a Gardland. Ma questa non è la tua però, è Luciano la battuta, questa se non sbaglio era di Crozza, l'ho sentita dire da Crozza, comunque Crozzi tuoi. Infine Carla Cassai che nell'articolo relativo a Troia, che scrissi sull'antica Troia, ovviamente dice o qual è quella Troia malandata? Ce ne sono tante di Troie al giro, ne conosco una in Portogallo, infatti c'è la città di Troia, poi c'è una Troia nelle Puglie, quella della guerra di Troia e io veramente se vuoi vedere dove è anche qui vicino Arezzo, vai al Torino, cara Carla, vai al Torino e pigli la messa, c'è la chiesa su a Torino e pigli la messa, ma avete rotto coglioni no? A mio!